Come la vittoria c'è volata Giroglio d'Italia, il tour dell'extravergine promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Oglio è arrivato a Città Sant'Angelo. Da ieri fino a domani tanti giorni intensi di conferenze, corsi di degustazioni, menu a tema nei bar e ristoranti del Centro Storico Angolano. Oggi sono qui a rappresentare l'Associazione, a portare il saluto del Presidente Lupi e delle 350 Città dell'Oglio d'Italia per fare complimenti agli amici dell'Abruzzo che riescono a organizzare queste belle iniziative, a tenere viva la cultura dell'olio e dell'oliva, perché è importante precisare che Città dell'Oglio questo fa, questa è la mission. Quest'anno c'è da dire che le Città dell'Oglio fanno la tappa regionale del Giroglio d'Italia proprio nei territori di produzione, quindi iniziamo da Città Sant'Angelo per poi andare nei prossimi anni, ogni anno, in una Città dell'Oglio diversa. Non solo olio però, perché dal pomeriggio di oggi si parlerà anche di vino con convegne e degustazioni guidate, con il gran finale domenica pomeriggio con la 32esima edizione della Sagra dell'Uva, con le sfilate dei carri tradizionali e la presenza del bue di Sanzo Pito di Loreto a Prutino. Un ringraziamento lo voglio fare al mio Vice Sindaco Alice Fabiani e a tutto lo staff che ha curato la manifestazione. Come hai detto bene, oggi si parla di olio perché siamo Città dell'Oglio, domani si parlerà di vino perché siamo Città del Vino e poi domenica ci sarà la famosa sfilata dei carri allegorici della Sagra dell'Uva. invito tutti coloro che ci stanno ascoltando a venire a passare una bella giornata anche perché le condizioni meteo pare che siano favorevoli a Città Sant'Angelo.